Allora ragazzi facciamoci una chiacchieratina veloce, non so quanto veloce in realtà, ma proviamoci sulle nomination ai The Game Awards del 2022 che sono disponibili da qualche ora. E' possibile votare per le nomination sul sito dei Game Awards e andiamo a guardarle tutte un po' insieme e commentiamole, dai facciamo questa cosa. Mi servono, mi servono, mi servono. Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. Allora, io di questi sei ne ho giocati e finiti quattro, ovvero Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Stray, non ho giocato Xenoblade Chronicles 3 e non ho ancora iniziato a Plague Tale Requiem perché non ho mai finito il capitolo precedente. Ovviamente voglio finire prima quello per poi dedicarmi anche a Requiem. Dico che secondo me a occhio possono mancare un paio di giochi o comunque diciamo mi avrebbe fatto piacere trovarci due giochi che non ci sono, che sono Bayonetta 3 e Sifu, che troveremo in altre categorie che però secondo me ovviamente non posso permettermi di parlare per Xenoblade Chronicles 3 che non ho giocato e per A Plague Tale Requiem che non ho giocato, però insomma sicuramente entrambi sia Sifu sia Bayonetta 3 per quel che mi riguarda sono dei giochi che complessivamente per valori di produzione, per ispirazione, per qualità del gameplay e per quello che offrono e tutto, sono per me superiore a Stray. Stray lo trovo un gioco che è basato su un'idea molto carina, con tanto buon gusto su tante cose, però insomma anche un po' un prodotto un pizzico meno soddisfacente, sia di Sifu che invece secondo me è proprio anche come innovazione, oltre che come qualità proprio complessiva, come gusto del gameplay e sia anche di Bayonetta 3 che non ho ancora finito, Sifu l'ho finito, Bayonetta 3 non l'ho ancora, lo sto giocando proprio in questi giorni, però insomma sono convinto che è meglio di Stray, anche Bayonetta 3 ovviamente per il mio gusto personale, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, e poi vi dico, vi metto invece in classifica un po' quelli che ho giocato, quindi ultimo posto per Stray, per quanto vi riguarda, poi Forbidden West, poi God of War Ragnarok e infine Elden Ring che è per me il gioco migliore del 2022 tra quelli che ho giocato. Andiamo a vedere la prossima categoria insieme, Best Game Direction, il premio alla miglior regia, sono 5 nomination, quella per Game of the Year sono 6, la categoria Game of the Year ha 6 nomination, invece le altre nomination ne hanno generalmente 5, qui abbiamo Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality che purtroppo non ho giocato, che purtroppo non ho giocato ancora, questo ecco mi piacerebbe giocarlo, recuperarlo, e Stray, anche qui su 5 ne ho giocato i 4, e come Game Direction è un po' un problema che ho anche quando negli Oscar si deve assegnare il premio al miglior film e un premio a parte alla miglior regia, per me coincidono abbastanza, secondo me anche questo io lo darei a Elden Ring, però ecco, se vogliamo proprio scendere nello specifico della regia, in questo caso lo potremmo assegnare anche a God of War Ragnarok, sempre per quelli che ho visto io, ricordo che non ho giocato Immortality, però il Game Director in un videogioco è anche un po' qualcosa di diverso del regista, quindi qua comunque rimarrei su Elden Ring. Migliore narrativa, best narrative, abbiamo A Plague Tale Requiem, di nuovo Elden Ring, di nuovo God of War Ragnarok, di nuovo Horizon Forbidden West, e ancora Immortality che purtroppo non ho giocato, ripeto, tra i quattro che ho giocato, tra i tre scusate in questo caso che ho giocato, a Plague Tale Requiem non l'ho giocato, il premio per la migliore narrativa lo darei a God of War Ragnarok, seguito da Horizon Forbidden West, e per ultimo Elden Ring, perché io non sono un amante del tipo di narrativa che caratterizza i giochi di Miyazaki, che come sapete invece per il resto adoro assolutamente. Andiamo avanti, vediamo la Best Art Direction, ancora Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn, Estray, qui non ho giocato Scorn, però insomma ho avuto modo di vedere un po', capisco assolutamente, perché sia stato inserito in questa categoria, qui premierei comunque Elden Ring, sono assolutamente super fan dello stile con cui vengono realizzate graficamente le cose in casa From Software, Elden Ring non è un'eccezione in questo e quindi direzione artistica per me, Elden Ring, anche se devo dire che qua tutti gli altri giochi presenti hanno qualcosa da offrire, anche qui probabilmente ci poteva stare anche qualcos'altro, ma ovviamente nelle categorie è sempre così, non si può includere proprio tutto quello che è uscito nel corso di un anno. Tra l'altro nei commenti fatemi sapere invece cosa avreste inserito voi, anche nelle varie categorie di nomination che stiamo scorrendo. Miglior colonna sonora e musica, A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hell Singer, Xenoblade Chronicles 3 e qui ne ho giocati pochi, 2 su 5, Elden Ring e God of War Ragnarok, quindi mi piacciono entrambi come colonna sonora, però anche qui per mio gusto personale Elden Ring un po' di più, una colonna sonora un po' più memorabile, mettiamola così, mentre quella di God of War Ragnarok probabilmente è più elegante, accompagna molto bene il gioco. Per gli altri ditemi voi, fatemi sapere chi votereste in questa categoria. Miglior audio design, Call of Duty Modern Warfare 2, che non ho giocato, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Qui ho giocato, giochicchiato anche Gran Turismo 7, che mi sento di comprendere, capisco perché è inserito qui e penso che sulla fiducia, mi immagino che anche Call of Duty Modern Warfare 2 abbia il suo bel motivo per essere qui. Io direi che è possibile che vinca uno di questi due, uno tra Call of Duty Modern Warfare 2 e Gran Turismo 7, perché l'audio design sicuramente è sempre una componente caratterizzante di questo tipo di produzioni. Best Performance Ashley Bartsch per Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney per A Plague Tale Requiem, Christopher Judge per God of War Ragnarok, Man on Gage per Immortality e Sunny Soljic, spero si pronunci così, per God of War Ragnarok. Per quanto ci sia qualcosa da dire, ma allora Christopher Judge fa Kratos in God of War Ragnarok, voglio controllare, allora, Kratos in God of War Ragnarok, allora, sì, Christopher Judge, ok, allora, sì, io direi che per quanto mi riguarda, mi piace un sacco l'interpretazione, anche la voce, anche se poi il gioco l'ho sentito giocato soprattutto in italiano, perché è anche un ottimo doppiaggio con The War Ragnarok, però, insomma, premierei, non so, Immortality, che deve essere molto figo da questo punto di vista, quindi probabilmente ci si può aspettare qualcosa da lì. Games For Impact, giochi che hanno avuto un impatto sociale, che anche portano un certo tipo di messaggio, A Memor Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Handling, Extinction Is Forever, Hindsight, I Was A Teenage Exocolonist, io di questi ho giocato solo, ho giocato e finito solo As Dusk Falls, quindi non saprei come valutare gli altri, e quindi cosa pronosticare, o neanche dirvi cosa... a chi assegnerei io il premio, mi sembra anche strano che sia presente As Dusk Falls nei giochi Games For Impact, quindi immagino che non lo vincerà, perché per me è una storia normale, non so quale sia l'impatto sociale di As Dusk Falls, è una bella storia, sì, con dei temi che possono riguardare, comunque rapporti tra persone, eccetera, però mi sembra una storia normale, fiction normale. Best on going, categoria dove sono presenti i giochi che continuano a essere supportati dai loro sviluppatori, con aggiornamenti, stravolgimenti, anche in molti casi, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e Gashin Impact, non gioco nessuno di questi, quello che ho giocato di più, ma non più in questo periodo, è Destiny 2, e basta, quindi non saprei, sento parlare sempre molto bene di come Final Fantasy XIV venga curato, supportato, eccetera, però insomma io di mio non vi posso dire niente. Oh, e vediamo finalmente Sifu comparire in una delle categorie, Best Indie, Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray e Tunic, tutti giochi molto apprezzati da diversi giocatori, chi più, chi meno, chi per un motivo, chi per un altro, io voglio far vincere Sifu, assolutamente, almeno in questa categoria. Best Mobile Game, Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Gashin Impact, Marvel Snap, Tower of Fantasy, e ho provato Diablo Immortal, tra questi, e insomma non mi ha convinto tanto a continuare, un po', devo dire, anche per il pregiudizio di meccanismi basati sulla monetizzazione, di cui mi hanno parlato altri che erano andati più avanti di me, e che insomma un po' mi hanno smontato. Vorrei provare Marvel Snap invece, perché mi interessa, sia per l'ambientazione, cioè l'ambientazione, diciamo l'universo a cui si ispira, quello Marvel, e sia per il tipo di gioco, no? Sono uno che ha giocato tanti tanti anni a Hearthstone, e prima di Hearthstone tanti altri anni a Magic, quindi potrebbe piacermi il gioco di carte nell'universo Marvel. Best Community Support, miglior supporto della community a un gioco, o meglio, miglior supporto per la community da parte del gioco, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite e No Man's Sky, ancora presente, anche No Man's Sky, non tanto come on-going, quanto per il supporto della community, mi fa molto piacere. Non saprei proprio cosa dirvi, però, perché non sono giochi che sto giocando in questo periodo, quindi non saprei. Già il fatto che sia presente nella nomination a No Man's Sky mi sembra notevole, comunque. Innovazione nell'accessibilità. Asdask Falls, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island, interessante, perché devo iniziare a giocarlo, The Last of Us Parte 1 e The Quarry. Per quanto riguarda l'accessibilità, su The Last of Us Parte 1 e God of War Ragnarok posso garantire assolutamente, sono i classici giochi ormai dei PlayStation Studios in cui tutte le opzioni di accessibilità che possiamo immaginarci sono incluse, quindi capisco la loro presenza. Gli altri... Il Last of Us forse un po' mi sorprende, perché è un gioco che di base è molto accessibile in quanto... Forse non ci ho fatto caso io, non ho esplorato molto le opzioni di accessibilità, però è l'avventura narrativa, stile Telltale, quella roba lì. Stile un po' Quantic Dream, ma molto più tranquilla, dove veramente non devi fare... Forse proprio in generale, proprio come gioco, è un gioco molto accessibile. Sì, è vero, in effetti sì. Gli altri li voglio provare, cioè Return to Monkey Island e The Quarry. Return to Monkey Island adesso che è arrivato nel Game Pass, quindi ottimo. Miglior gioco VR o AR, realtà virtuale o realtà aumentata, After the Fall Among Us VR, Bone Lab Moss Book 2, Red Matter 2. VR alzo le mani, non è mio territorio, quindi qui non saprei cosa dirvi. Best Action Game è qui, oltre a Sifu che ritorna, finalmente vediamo anche Bayonetta 3. Ecco, se Sifu vince il miglior indie, sono contento se qua invece Bayonetta si prende il premio di Best Action Game, che è un po' più la sua categoria in effetti. Miglior Action Adventure invece, A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic. Qua per me nettamente God of War Ragnarok. Best Role Playing c'è dentro Elden Ring, poi c'è Live Alive, Live Alive, Pokémon Legend, Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3. Ho giocato solo Elden Ring, gli altri mi sembrano, tra gli altri ci sono secondo me dei giochi che sono un po' più RPG anche di Elden Ring, però sicuramente Elden Ring ha la sua componente ruolistica, tra virgolette, e quindi non voglio tifare per Elden Ring anche in quella categoria, magari ci sono altri giochi che meritano di più, Elden Ring per me deve vincere il gioco dell'anno sicuramente. Miglior picchiaduro, miglior gioco di mazzate, Best Fighting, DNF Duel, Jojo's Bizarre Adventure, All Star Battle Hard, King of Fighters XV, Multiversus e Sifu, quasi vince Sifu. Sono contento. Best Family, Kirby and the Forgotten Land, LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports e Splatoon 3. E qui anche, non l'ho ancora iniziato, Sparks of Hope, però mi è piaciuto tanto, Kingdom Battle, il predecessore della serie Mario Plus Rabbids, ancora il team di Ubisoft Milan con gli amici Babic, Surgo, Maggiustra e Davide Soliani e tutti gli altri al lavoro, quindi insomma un po' di tifo italiano per il team. Mi farebbe piacere se vincesse Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, anche in quest'altra categoria magari, Best Sim barra Strategy, forse ancora più prestigiosa se vogliamo, Dune, Spice Wars, Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, Total War, Warhammer 3, Two Point Campus e Victoria 3, il tifo ce l'ho per un gioco, non li ho giocati però quindi non vi posso dire chi merita secondo me. Miglior Sports Racing, F1 22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7 e Holy Holy World, ho giocato solo Gran Turismo 7, diciamo che sono curioso di vedere chi vincerà. Best Multiplayer con Modern Warfare 2 Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3, è la prima volta che comparo Overwatch 2 effettivamente nel nomination, non troppo preso in considerazione nelle altre, Splatoon 3, anche io me l'ero un po' dimenticato, e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Non ho giocato non solo a questi giochi ma neanche tanto multiplayer quest'anno, quindi resto lì in attesa a vedere, a guardare, sono curioso di vedere se Multiversus può spuntarla. Content Creator of the Year? Non li conosco purtroppo, ragazzi, ammetto la mia ignoranza, e poi voglio dire manca un certo walone, sto scherzando, sto scherzando naturalmente, però non so. Best Debut Indie, cioè il miglior gioco indie di un nuovo team, Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivors, anche qui ci potrebbe scappare il tifo italiano per Vampire Survivors, che tra l'altro se lo merita anche perché è un'idea veramente di quelle abbastanza geniali, gioco droga molto semplice, miglior adattamento al di fuori del mondo dei videogiochi per robe che riguardano i videogiochi, quindi anime, serie tv, eccetera, Arkane, League of Legends, Cyberpunk, Age Runners, The Cuphead Show, Sonic the Edgehog 2 e Uncharted il film, io direi che qui Arkane può, no, 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 non volevo fare questa cosa, no, 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 torna dove ero per favore, no, no, ho rotto tutto, ho rotto tutto, ho rotto tutto, dicevo, secondo me Arkane può vincere abbastanza tranquillamente, sono riuscito a ripristinare, però tornato indietro di qualche categoria, qui Arkane può vincere, allora, ecco qua, abbastanza tranquillamente, il gioco più atteso tra Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, che credo vincerà, io lo voterei, è seguito poi da una bella sfida tra Starfield e Final Fantasy XVI, per me non c'è tanto hype per Hogwarts Legacy, ce n'è molto per Resident Evil 4, il remake, però insomma un remake io lo metto sempre un po' al di sotto rispetto a giochi nuovi, quindi lo metto dopo The Legend of Zelda, dopo Starfield e dopo Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy invece non l'avrei proprio inserito nei giochi più attesi, ovviamente, e le nomination di Game Awards non sono la mia idea, comunque, Best Esports Game, Counter Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League e Valorant, qui non è, anche qui non è una roba mia, ho giocato solo Rocket League e neanche tantissimo, no, un pochino anche a League of Legends all'epoca, non lo tocco da una vita però, e quindi non saprei dirvi, penso che, boh, chi potrebbe vincere, ma chi lo sa, chi lo sa, lo scopriremo, lo scopriremo insieme. Miglior atleta esports, anche qui sono totalmente ignorante, non li conosco i candidati, che vinca il migliore, così come vinca il miglior team, ma anche il premio del Best Esports Team, anche qui non conosco, non saprei, quindi non vi so dire, anche addirittura Best Esports Coach, proprio ancora peggio per me, fatemi sapere voi ragazzi, se conoscete i nominati a miglior coach, miglior team, miglior atleta esport e il miglior evento esport, ci sono un po' di, ovviamente, di categorie dedicate agli esports. Va bene, va bene, va bene, queste sono tutte le categorie con le nomination per i Game Awards del 2022, ripeto, quelle per il Game of the Year, Plugged Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Exenoblade Chronicles 3. Il mio voto, ma anche il mio pronostico, sono per Elden Ring. Fatemi sapere i vostri nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace, condividete il video, fatelo conoscere ad altre persone e grazie anche per aver ascoltato questa chiacchierata, questo mio commento veloce. Alla fine, ragazzi, è stato veloce, lo so che il video durerà 25 minuti circa, però l'abbiamo sfogliato velocemente, le nomination sono 31 categorie e non ci abbiamo messo tanto tempo. Grazie, grazie per aver ascoltato fin qui e Caraibi.